Il 28 dicembre di 76 anni fa si scrive una delle pagine più cruenti della repressione fascista alla lotta partigiana. Siamo nelle campagne di Reggio Emilia, la cascina della famiglia Cervi è un punto di riferimento della resistenza. Qui si curano i partigiani feriti, qui trovano rifugio gli antifascisti in fuga. Il capofamiglia Alcide è già in carcere quando i suoi sette figli, prigionieri da un mese, vengono portati al poligono di tiro e fucilati assieme ad un ottavo uomo, quarto Camurri, pure lui partigiano. Un'esecuzione ordinata come rappresaglia all'omicidio di un funzionario fascista ad opera dei GAP. I gruppi di azione patriottica. I fratelli Cervi hanno dai 22 ai 44 anni e a loro oggi sono intitolate vie, piazze e scuole. Un eccidio il loro forse considerato eccessivo da coloro che lo hanno ordinato ed eseguito. Tant'è che dagli archivi storici della direzione fascista troviamo un documento con annotato accanto all'elenco dei loro nomi, una frase dubitativa. Tutti fratelli sottolineati in rosso quasi ad esprimere la tardiva presa d'atto della sproporzione fra la strage ordinata e la rappresaglia voluta.